Da 1 a 3 resta minimo in Toscana l'aumento di casi di coronavirus. Ben più alti i numeri dei guariti, 91 nell'ultimo bollettino e 8.531 totali, oltre l'80% dei contagiati dall'inizio dell'emergenza. Calano i decessi, solo uno nelle ultime 24 ore, un uomo di 72 anni. I nuovi casi sono stati registrati nelle province di Firenze, Prato e Lucca. Complessivamente 484 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Sono 3.458, meno 155 rispetto al precedente bollettino, le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Si riducono ancora infine le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid. Quelle rimaste in terapia intensiva sono soltanto 15.